un tapirulan rivestito di erba sintetica una piccola piscina terapeutica con idromassaggio e un tablet con giochi per cani è la cuccia estralusso per i cani vip da 30 mila dollari della samsung presentata al craft 2015 in inghilterra considerato tra i più grandi show canini del mondo designer e ingegneri hanno progettato la più avanzata e meglio equipaggiata cuccia per cani ideata per le taglie più piccole che passano molto tempo in casa la cuccia ultra moderna include anche un dispenser automatico di cibo